siamo brondi non ci interessa il filmato iniziale siamo tutti brodi lettera decorata vai non devo sbirciare niente non me ne frega va bene no è niente che mi interessi uno due uno due uno due fatto fatto non so come però fatto si mi guarisco hai visto sono bravo dicevo attacco va a fa cura va a fa cura costitutorial dove sono le opzioni stai zitto dove sono le opzioni bisogno di gioco no come si disattiva il tutorial facile come bere un bicchiere di bicchieri buonasera fatto fatto Compress Fugno di foligine Voilà Voilà No Voilà Voilà Fatto No Ok Fatto Gli azerbaijani Dissero a post Allora Ci dici Ti apro il buco del culo Ah Ma Thank you Non ce l'ho la contromossa Mikiri Bastardo Usi cheat Usi cheat Eh però posso deviartelo Basta Aia No Ok E il tutorial L'abbiamo fatto No Ok No Ok